Commercio in ginocchio a Ponte Cagnano-Faiano, i commercianti lamentano un non adeguato piano di programmazione da parte dell'amministrazione comunale. Ne abbiamo parlato questa mattina nel corso di Buongiorno Lira. Vediamo le immagini. Un settore in affanno, quello del commercio a Ponte Cagnano-Faiano, emerge la necessità di uno strumento di programmazione perché i commercianti lamentano la carenza di iniziative a sostegno del settore e l'assenza ormai da cinque mesi di un assessore a ramo. Alla crisi generale si affianca la mancanza di azioni concrete e un non adeguato piano di programmazione da parte dell'amministrazione comunale. I commercianti praticamente hanno denunciato una carenza di infrastrutture, di centri di aggregazione come un cinema, una piscina che permettono di raccogliere utenza e non farla trasmigrare verso i comuni limitrofi. Si denuncia tra l'altro la carenza per cinque mesi dell'assessore al commercio e in un periodo del genere di crisi proprio economica avere un referente in amministrazione per il commerciante sarebbe stato importante. Tra l'altro vediamo che l'amministrazione è molto sensibile alla grande distribuzione che non condanniamo assolutamente in quanto è stato fatto un regalo alla grande distribuzione in quanto il servizio di trasporto pubblico cittadino reso gratuito per tutti i cittadini sembra avere più l'interesse di far arrivare l'utenza, i cittadini al centro commerciale che è alto. Da circa due anni, da quando hanno rifatto il manto stradale, il marciapiede nuovo, praticamente io avevo tre posti per parcheggiare. In questo periodo invece non si è vista la possibilità di avere parcheggi liberi per quanto riguarda l'avventore, il consumatore. L'attività è in via Dante a Ponte Cagnano, zona totalmente disinteressata dal pubblico. La mia idea è cercare di creare qualcosa che unisca tutti i commercianti a Ponte Cagnano, indipendentemente dalle forze politiche. Io ho un ristorante a Feano e da diversi mesi, perché siamo una nuova attività, cerchiamo con i nostri sforzi di creare delle situazioni per intercettare i consumatori, eccetera. Ma non riusciamo da solo, anche perché Ponte Cagnano è un paese di grosse tradizioni culinarie, ma in questo momento ognuno va in ordine sparsa, non riusciamo ad avere un coordinamento dal comune, non lo so, pubblicizzare un pochettino queste attività, riuscire ad avere una mano dal comune, da altri organi.